In questa lezione facciamo una panoramica veloce che sono queste 23 librerie. Nella prima parte troviamo la ceramica. Entriamo all'interno della ceramica, impostiamo icone molto grandi, troviamo stone tile, stone tile sono delle pietre ripetute e poi abbiamo i mosaici della ceramica, poi ad esempio qui la terracotta e tutte delle piastrelle che sono ripetute con dei colori che sono diversi e poi abbiamo anche porcellana, tableware e vi invito a vedere velocemente, una volta che avete scelto il render, anche come si comporta sul render come dire più definitivo, quindi fate un clic e andate avanti, vedete ad esempio la terracotta, invece gli altri tipi di piastrelle che sono più riflettenti e questa invece ad esempio la porcellana che ha un altro chiaramente aspetto. Entriamo all'interno del composite, la composite sono delle fibre di carbonio, carbon fiber, carbon fiber e anche qua vi invito a fare un render, a vedere le tipologie di texture che sono state inserite all'interno della fibra di carbonio, che sono poi bene o male i primi materiali base, però hanno delle texture diverse, quindi è importante avere delle tipologie differenti. Questo è il concrete che rappresenta il calcestruzzo, ci sono tanti materiali che noi possiamo utilizzare, anche questi materiali sono stati realizzati su dei render con una ripetizione ad esempio tipo 1010 per far vedere un po' le vennature, perché di default sono un pochino più bassi ed si parte dal primo, concrete cast, concrete powers e si visualizzano per avere idea di quello che ci piace di più. Ricordatevi che il nome della libreria è poi questo, concrete ad esempio i 5, come vi ho già detto il numero anteposto al numero incrementale che io ho utilizzato per elencare appunto i render. Eccoli qua, poi abbiamo emission, emission come cartella è stata impostata come emission EV 10.5, questo significa che se faccio render all'interno del render setup per quanto riguarda quello che è l'expose value è stato impostato a 10.5, con la scena che io ho utilizzato, che è una scena che potete trovare all'interno del primo corso, quindi non la ritroverete qua nel terzo corso, ma ad esempio nel secondo corso anche. Nel secondo corso capstart abbiamo i materiali MDL materials che hanno questa impostazione di render setup che viene modificata per quanto riguarda appunto l'emissione, per farmi vedere un po' meglio come è rappresentata il render dell'emission. In questo caso vedete che ci sono delle potenze, 3 watt, 60 watt, 35 watt, queste tipologie di materiale è un materiale autoilluminato con diverse tinte, quindi diversi gradi kelvin differenti e diverse potenze differenti e infatti vediamo qui nel render che ci sono delle scene molto illuminate, perché chiaramente ci sono le 3 cap illuminate e mi danno una illuminazione molto più importante. Quella più bassa è questa, che sono delle candele per una fiamma, che è una intensità più bassa di illuminazione. Questa è interessante Fabrics perché rappresenta dei tessuti e si parte da quelle che sono le pelli, per arrivare a dei tessuti più comuni, che possono essere ad esempio dei tessuti come anche la lana o dei tessuti come la juta e così via. E vi suggerisco anche qua di vedere il render perché da molto l'idea, quindi una volta che io ho scelto, posso rendermi conto di come viene rappresentata la pelle, eccola qua, e come vengono rappresentati ad esempio l'effetto della lana, l'effetto di un tessuto tipo lino, chiaramente non c'è il nome lino, però si riconosce facilmente qual è l'effetto tipo un po' sacco e così via. Quindi anche qui andiamo avanti e vediamo, questo è il Velvet, che ha un particolare shader che abbiamo già studiato nel primo corso, il Satinato, altre tipologie di Satinato, Satin, ok. Poi abbiamo il Flooring, che sono le pavimentazioni, e qui abbiamo Carpet, Carpet, e anche delle tipologie tipo legno, Floorboard, Paving, e quindi pavimentazioni. Quindi si passa da una tipologia che potrebbe essere un tappeto, a una tipologia che potrebbe essere un parquet, a una tipologia che potrebbe essere anche una pavimentazione tipo esterna. E anche qua vi invito a fare il solito gioco, a vedere come sarebbe la rappresentazione del tappeto, del Carpet, e vedere anche qua altre tipologie di Carpet, e qui il Floorboard, altre tipologie di legno, che sono disponibili, e poi si passa alla pavimentazione, paving, tipo pavimentazione un pochino più esterna. Anche questi sono dei bei materiali. Le gemme sono soltanto tre. Come abbiamo visto nel corso, la gemma poi viene modificata in relazione a quello che è lo spessore che io inserisco nel materiale, quindi se è troppo scura andrò a modificare lo spessore, per avere un colore più brillante e più trasparente. Chiaramente in quella che è la libreria, lui non può sapere se il mio materiale sarà più o meno trasparente. Qui abbiamo il Glass, che rappresenta varie tipologie di vetri, con varie rappresentazioni, sia per quanto riguarda la distorsione, vedete che questa distorsione è diversa da questa, qui abbiamo anche un effetto arcobaleno, che qui ad esempio non c'è, qui abbiamo Gloss Frusten con della serie di motivi, quindi abbiamo alcuni colorati, il mirror, sono tutti i render questi un pochino più generosi da calcolare, perché stiamo parlando appunto di rifrazione, e sotto c'è sempre la dicitura del materiale, quindi anche questo vi servirà molto, perché tutte le volte se io devo selezionare ad esempio un tipo di vetro, questo ad esempio è lo specchio, mirror, io ho già la rappresentazione di quello che sarà il render, anche il physical blu, questo qua sarebbe un physical verde, io ho scritto sempre il physical blu velocemente, però in effetti è un verde. Interior's Wall sono delle murature di interni, su questa libreria manca una mappa, che sarebbe una mappa che lui non trova, quindi potete anche comunque rifarla, è una mappa che non è stata associata probabilmente per dimenticanza, ed qui abbiamo i render, un effetto tipo guscio d'uovo, con diverse colorazioni, che sono queste, che vediamo rappresentate, e poi ci sono anche tipo un effetto di carta da parati, che sarebbe questa qua. Andiamo avanti, ci sono i liquidi, questi liquidi sono molto onerosi nel calcolo, rappresentano ad esempio wax, tipo cera, lago, no, oceano, oceano, gel, red, shampoo, acqua, tropicale, bolle di sapone, anche queste le troviamo direttamente qua dentro, vedete che sono anche queste interessanti. Maisonry, delle murature, anche queste le abbiamo già viste, sono molto interessanti anche le murature, poi faremo un discorso per i displacement, ad esempio per questi tipi di oggetti, e poi anche qui abbiamo i metalli, anche i metalli sono molto variegati e molto interessanti, si parte da metalli che sono traforati, metalli con tipo l'alluminio, il metallo invece più lucido, e il cromo, vedete che il cromo è più scuro rispetto all'alluminio, e poi abbiamo questi altri materiali che vanno a simulare, ad esempio quello che è il rame, il brush, quindi tutte le tipologie disponibili, poi ci sono anche delle texture per rappresentare delle grate, anche queste sono interessanti, oppure della ruggine, e metalli che hanno una specifica rappresentazione di quella che è la realtà, perché sono stati simulati proprio, andando a verificare quali sono tutti i loro indici di rifrazione, e così via, quindi è una libreria molto interessante, quindi anche questo vi consiglio di osservarla, vedete che qui abbiamo l'effetto con la spazzolatura circolare, qui abbiamo quello perforato, e andando avanti, ecco qua, ne abbiamo degli altri. poi i miscellaneus sono due materiali industriali, che sono molto semplici, organic sono dei materiali che rappresentano il sub-surface scattering, e sono molto molto onerosi nel calcolo, perché appunto il sub-surface scattering rappresenta appunto la pelle, e tutto quello che viene rappresentato come colore in controluce, quindi come render, è un render uno tra i più onerosi da calcolare. Paint sono delle vernici metalliche, che vanno benissimo per le carrozzerie di auto, ce ne sono di diversi colori, con diverse tipologie di flakes, quindi quello che sarebbe la vernice metallizzata.